Il Teramo Calcio, a pochi giorni dal raduno precampionato di Serie C, è nuovamente alla ricerca dell'allenatore della prima squadra. Infatti, nelle scorse ore Ceteo Dimascio, che aveva guidato il Diavolo dopo l'esonero di Bruno Tedino nella scorsa stagione, non sarà più l'allenatore e di comune accordo tra le parti tornerà a ricoprire il ruolo di responsabile tecnico del settore giovanile. Stesso percorso per il suo vice Marco Stella, che siederà sulla panchina della Bretti. A comunicarlo un po' a sorpresa, nella giornata di ieri, proprio la società Biancorossa, con una nota apparsa sul proprio sito internet, il quale ha annunciato anche la risoluzione contrattuale con il preparatore atletico Giuseppe Puleo, così come fatto qualche giorno fa con il match Analyst al Cile di Salvatore. Il ritorno di Ceteo Dimascio nelle giovanili apre così il toto allenatore per la nuova stagione. Il nuovo profilo a questo punto molto probabilmente sarà un giovane di prospettiva, formatosi in Serie D o addirittura alla prima esperienza come allenatore, e soprattutto con un ingaggio non molto elevato. Tutto questo per cercare di agginare gli elevati costi affrontati nella stagione 2019-2020, con un occhio al contenzioso che porterà la società alla probabile condanna e di conseguenza al pagamento degli stipendi Covid. Stessa situazione per il Parco Calciatori. L'obiettivo anche qui è sfoltire la rosa, principalmente tra i più esperti e dal contratto elevato, come gli attaccanti Cianci e Martiniago, oltre i centrocampisti Arrigoni, Ilari e Costa Ferrera. Intanto l'ex Bruno Tedino, dopo aver trovato l'accordo per la rescissione del contratto con il Teramo, ha trovato l'accordo che lo legherà per i prossimi due anni alla Virtus Entella in Serie B.